Siamo con Cristiana Pasqualetti che ha curato questa bellissima pubblicazione Abbondano di così fatte rarità e che testimonierà questa presenza anche nel convegno che è in corso di svolgimento a Palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale. Sì, grazie. Il libro che abbiamo appena pubblicato, A cura mia e di Andrea Improta, è il frutto di una ricerca triennale che ci ha portato ad esplorare i manoscritti miniati della Biblioteca Nazionale di Napoli, rintracciando quelli miniati di provenienza abruzzese e per la precisione provenienti dai conventi francescani abruzzesi che furono trasferiti a partire dalla fine del Settecento in quella che era allora la Biblioteca Reale di Napoli, un'operazione che ha salvaguardato un patrimonio librario e un patrimonio anche di codici miniati da storici dell'arte e noi ovviamente ci siamo interessati soprattutto ai manoscritti caratterizzati da illustrazioni e da decorazioni che si intrecciano con i testi. Quindi questo volume, da noi curato, raccoglie una serie di saggi ad opera di diversi studiosi che hanno approfondito alcuni aspetti di questa vicenda e la seconda parte del volume contiene poi un vero e proprio catalogo quindi con schede oltre 50 ognuna relativa a ciascuno dei manoscritti che per l'appunto abbiamo individuato. Manoscritti che vengono per lo più dai conventi di San Bernardino all'Aquila, di San Giuliano anche su all'Aquila, di San Francesco a Capestrano, Santa Maria delle Grazie a Teramo, tutti i conventi francescani osservanti che raccoglievano nelle loro biblioteche codici che servivano per lo studio, per la preparazione dei frati alla loro attività pastorale i più pregiati dei quali presentano per l'appunto decorazioni miniate, sono quelli che noi abbiamo studiato. Ecco ricordiamo che è in corso di svolgimento appunto questa bellissima manifestazione che si sta svolgendo appunto al Consiglio regionale, al Palazzo dell'Emiciclo dove sono esposti questi codici miniati e a tal proposito si sta svolgendo anche un convegno internazionale che traccia diciamo un percorso abbastanza interessante soprattutto sullo sviluppo di quello che è stato il Liberde, il percorso anche di questi codici esposti. Certo, sì appunto dal 25 al 27 novembre, quindi a giorni, si terrà questo convegno internazionale che vedrà confluire all'Aquila studiosi da ogni parte d'Italia e anche da altri paesi europei per parlare della storia della miniatura e delle scuole italiane ed europee all'interno delle quali naturalmente si colloca anche una, chiamiamola scuola abruzzese, una tradizione abruzzese tardo-medioevale e del primo rinascimento. E quindi ecco siamo lieti di ospitare questo convegno che tra l'altro si svolgerà in presenza e anche questo vuole essere un segno di ritorno alla vita in città e anche all'attività culturale cittadina.